Bentornati! Lieti di avervi ancora con noi per altri utili suggerimenti sull'uso di Modaris. L'argomento di questa settimana è 12 funzioni per la modifica assistita di modelli in Modaris. Sapevate che oltre alle funzioni per la creazione assistita di modelli che abbiamo visto la scorsa settimana, Modaris dispone anche di una serie completa di funzioni per la modifica assistita di modelli? Sono 12 in tutto. Si trovano nel menu Modifiche macro. Basta scegliere quella desiderata dal menu a tendina. Una volta caricata la funzione verrà visualizzata una finestra di dialogo nella parte inferiore destra dello schermo con istruzioni dettagliate. Le funzionalità necessarie vengono attivate automaticamente. Per imparare come modificare i modelli è sufficiente seguire le istruzioni e utilizzare gli strumenti indicati. Con le funzioni assistite imparare a modificare i modelli è facile e divertente. Ripassate le vostre conoscenze e formate i nuovi membri del team grazie a questi fantastici strumenti. Arrivederci alla prossima settimana per ulteriori suggerimenti sull'uso di Modaris.